Milano Pavia News edizione estate, benvenuti, vediamo i titoli. Dopo il sequestro della scuola di San Genesio, le famiglie tirano un sospiro di sollievo per la sicurezza dei bambini, ma l'opposizione attende la chiusura indagini per sapere la verità sui lavori. Proposta inaccettabile, così la lega in Consiglio Comunale a Milano, sull'idea dello Iuscole per la cittadinanza lanciata da Forza Italia e anche Fratelli d'Italia è contraria. Andrà avanti, nonostante il ritiro del PGT, il progetto per le nuove palazzine in via Marangonia, Pavia Ovest, lettera dei residenti al sindaco, chiedono verifiche su vari parametri. La cocaina è più usata nei weekend, la cannabis è a metà settimana, l'ecstasy sabato, il tragico calendario del consumo di droga a Milano ricavato dalle analisi delle fognature. Ancora un arragamento a Milano causato da un tubo forato durante un cantiere, getto d'acqua alla fermata della metro Sant'Agostino, il terzo caso in poco più di un mese. Ieri la notizia del dissequestro della scuola di San Genesio, oggi è il tempo dei commenti, in paese c'è chi tira un sospiro di sollievo per la sicurezza dei bambini, ma il dissequestro comunque tiene ancora aperti molti dubbi e si attende che terminano le indagini della procura per sapere veramente come se hanno stati fatti i lavori. Poco meno di un anno di indagini approfondite per giungere ad una conclusione che ha fatto tirare un lunghissimo sospiro di sollievo a tantissime famiglie. Nel plesso che ospita la scuola elementare e dell'infanzia di San Genesio non sussistono problemi di sicurezza. La notizia, divulgata nella mattinata di giovedì dalla procura di Pavia, titolare dell'inchiesta CLEAN, ha scatenato immediatamente una raffica di reazioni. A cominciare dall'opposizione consigliere di San Genesio, in prima linea, fin dal novembre del 2023, nei giorni caldi del sequestro del plesso scolastico e di tante incertezze e paure. A commentare gli sviluppi, ai nostri microfoni è Marzia Testa, capogruppo di San Genesio Futura. Come gruppo San Genesio Futura siamo felicissimi per le famiglie e per gli alunni della scuola materna e della scuola primaria, che finalmente potrà iniziare il nuovo anno scolastico in scuole che la magistratura, dopo tutte le preoccupanti intercettazioni svolte in corso di parte dell'indagine CLEAN, ci consente di riavere finalmente sicura. E come consigliere comunale, io unitamente a Irina Invernizia e Matteo Castaldo, siamo altrettanto felici perché non è necessario un ulteriore sborso dalle casse del comune per rimediare a delle difformità. I sigilli alla scuola di San Genesio erano stati apposti nel novembre di un anno fa, nell'ambito dell'inchiesta CLEAN della Procura, sviluppatasi su due filoni, uno riguardante ASM Pavia e l'altro gli appalti del lavoro al plesso scolastico, di San Genesio. I dubbi sulla bontà degli interventi realizzati erano scattati a seguito di alcune intercettazioni tra costruttori e progettisti che si stavano occupando dei lavori. I possibili pericoli per i bambini avevano quindi spinto il GIP ad accogliere la richiesta di sequestro dell'intero edificio. Le analisi approfondite condotte negli ultimi nove mesi hanno permesso di garantire la sicurezza della scuola, restituendola così a genitori e insegnanti. Sarà necessaria però un'esercitazione di evacuazione di emergenza, questa l'unica prescrizione della Procura di Pavia. Superato questo delicato step, ora il gruppo consigliare San Genesio Futura si aspetta novità sostanziali rispetto all'iter processuale. Di quanto il gruppo di San Genesio Futura non può che ringraziare il lavoro coscienzioso della Procura e ci auguriamo che da qui a breve si giunga la chiusura delle indagini preliminari all'eventuale processo, al fine di accertare quelle responsabilità per gli affidamenti contro legge che sono un atto dovuto, soprattutto dopo tutto quello che vi è stato in questi mesi, nei confronti dell'intera comunità di San Genesio. Coinvolge anche Milano il dibattito lanciato da Forza Italia a livello nazionale sulla cittadinanza attraverso l'Ujus Scole, cioè dare alla cittadinanza a chi completa un ciclo di studi in Italia, una proposta che non è stata accolta dal resto del centro-destra e che a Milano comunque trova terreno fertile di dibattito perché a Milano la percentuale degli allunni stranieri è consistente. Nelle ultime ore il tema che ha attivato i recettori della politica nazionale e locale è stato quello dell'Ujus Scole, ossia il diritto per i minori stranieri nati in Italia di ottenere la nostra cittadinanza dopo aver frequentato un determinato numero di anni del ciclo scolastico. A lanciare la proposta è stato il leader di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani, secondo cui la modifica e i criteri per ottenere la cittadinanza è quello di cui ha bisogno il nostro paese. L'ipotesi però ha incontrato l'irrigidimento, se non la palese opposizione, degli alleati di governo, aprendo un confronto tutt'altro che sereno all'interno della maggioranza. La Lega è arrivata addirittura a definire lo Ujus Scole come un tema che rischia di destabilizzare l'esecutivo. Nel nostro paese però gli alunni con cittadinanza non italiana sono 914.000, l'11% del totale, e la Lombardia è la regione con il più alto numero di studenti stranieri. L'area metropolitana di Milano, nello specifico, ha 82.400 studenti non italiani su 347.000, significa quasi uno su quattro. E soprattutto la grande maggioranza di questi, oltre la metà, sono nati qui. Sarebbero dunque loro i destinatari di una misura come lo Ujus Scole, che ha acceso il dibattito anche all'interno della politica locale. Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, sottolinea che sono inconcepibili le generalizzazioni che qualcuno vuole fare per colpa di qualche decina di baby gang. Gli alleati però mantengono la loro freddezza. Lo vogliamo dire seriamente agli amici di Forza Italia, lo Ujus Scole è una proposta inaccettabile, non è inclusa all'interno del programma di governo e non può andare avanti. La cittadinanza non può essere un qualcosa di regalato. La cittadinanza italiana non può essere considerata un mero affare burocratico o amministrativo, ma coinvolge la persona nella sua identità, nella sua individualità. Per cui non si può pensare che sia sufficiente frequentare un mero percorso formativo o di scuola, che potrebbero addirittura essere in futuro creati ad arte solo per il raggiungimento di questo scopo. Al contrario, il centro-sinistra è pronto ad abbracciare la sfida lanciata da Forza Italia, come spiega Diana De Marchi, che oltre ad essere consigliera comunale del Partito Democratico, è anche insegnante in un liceo milanese. Lo Ujus Scole è un'esigenza che richiediamo da tanti anni, perché serve a capire che sia cittadini e sia cittadini quando si va a scuola hanno le stesse possibilità di seguire squadre di calcio, cantanti, di vivere la vita di tutti i bambini e le bambine, a partire dall'importanza che viene data proprio all'essere a scuola e condividere i valori del nostro paese. La cronaca ancora un fatto violento nel centro di Pavia. Ieri sera, attorno alle 23.30, uno studente è stato rapinato da tre minorenni in corso di strada nuova. I tre hanno circondato la vittima. Uno di loro gli ha strappato la catenina d'oro che portava al collo. Lo studente si è messo a urlare, attirando l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri che si trovava nelle vicinanze. I militari sono intervenuti, riuscendo a raggiungere i tre rapinatori che nel frattempo avevano iniziato a fuggire. Uno di loro ha spruzzato dello spray urticante contro un carabiniere. Tutti comunque sono stati arrestati. Si tratta di tre egiziani, senza fissa dimora, di 15 anni. Avevano addosso la colanina strappata dal collo della vittima, colanina che è stata restituita. I 15 anni sono stati portati al carcere minorile Beccaria di Milano. Un giovane appartenente a una famiglia della cosiddetta Milano Bene è stato arrestato nelle scorse ore in Romagna. Vediamo perché. Appassionato di Rolex, quasi malato, al punto da tatuarsi il simbolo della corona a cinque punte sul braccio e al punto da commettere un vero e proprio reato. È come si è descritto il giovane meneghino di 18 anni, recentemente arrestato a Milano Marittima, per aver sfilato con la forza dal polso di una turista irlandese un orologio di lusso, dal valore di 8 mila euro e averlo sotterrato nel giardino dell'hotel in cui stava soggiornando. Non il membro di una banda criminale né un piccolo scippatore seriale. Il ragazzo appena maggiorenne, incensurato e studente in un istituto alberghiero di Milano, si trovava in vacanza sulla riviera romagnola con i genitori che gestiscono un ristorante nel capoluogo Lombardo. Qui, lo scorso mercoledì 21 agosto, secondo quanto emerso dalle indagini, dopo una serata in discoteca avrebbe seguito una giovane turista che indossava il costoso orologio. Mentre era concentrata ad aprire il lucchetto della bicicletta intorno alle 4 di notte, il diciottenne avrebbe deciso di entrare in azione. Il giovane avrebbe palpeggiato la vittima, l'avrebbe fatta cadere, lei ha riportato ferite guaribili in tre giorni e le ha poi strappato il Rolex dandosi alla fuga per poi rifugiarsi in hotel. Una fuga durata poco, i militari del radiomobile locale l'hanno infatti rintracciato in breve tempo e la turista irlandese lo ha riconosciuto immediatamente. A quel punto il giovane è stato arrestato e l'orologio restituito alla legittima proprietaria. Su richiesta della difesa il processo è stato aggiornato a inizio ottobre. Tre persone sono rimaste ostionate ieri sera mentre accendevano un barbecue in una casotta del parco del Ticino a Vigevano, tra di loro anche un bambino. L'allarme è scattato attorno alle 19.30, il fatto è avvenuto in zona lungo Ticino-Lido, a causare il ritorno di fiamma con tutta probabilità l'utilizzo di un accelerante, forse dell'alcol. Colpiti due uomini di 38 e 50 anni e un bambino di 8 anni. Sul posto due ambulanze e l'elisoccorso. L'elisoccorso ha portato il bambino al Niguarda, gli adulti invece hanno avuto un primo ricovero a Vigevano, ma è proprio il bambino il ferito più grave con ustioni di secondo e terzo grado in varie parti del corpo. La dinamica verrà ricostruita dalla polifia, non è escluso che sia stato il bambino a maneggiare l'alcol in un momento di distrazione degli adulti, che sarebbero intervenuti in seguito per allontanarlo dalle fiamme, rimanendo a loro volta ostionati. Ci spostiamo soltanto di qualche metro. Una settimana fa era a Ferragosto e ci fu quella maxirigliata abusiva sotto il nuovo ponte del Ticino, che tante polemiche aveva addestato. Ebbene, noi siamo tornati lì. È passata una settimana da Ferragosto, quando una maxirigliata sotto un nuovo ponte del Ticino di Vigevano aveva fatto gridare molti allo scandalo e i rifiuti sono ancora lì in piena area protetta. Anche perché quelli non sono solo i rifiuti della grigliata di Ferragosto, sono i rifiuti delle grigliate che si ripetono da mesi ogni domenica, come succede da anni nella bella stagione. Fatti di cui l'opinione pubblica si è accorta ora, complice la polemica ferragostana e che forse le istituzioni da tempo fingono di non vedere. Eppure non servirebbe nemmeno andare a Ticino per accorgersene, basterebbe un giro in stazione la domenica mattina. A chi vi parla è capitato di essere avvicinato proprio di domenica mattina da uno dei tanti gruppetti di sudamericani scesi dal treno carichi di borse frigo. È di là al Ticino, chiedono. E se rispondendogli si avverte che il fiume è distante chilometri e la passeggiata sotto il sole, borse frigo in mano non sarà agevole, scrollano le spalle e si limitano a domandare se c'è un supermercato sulla strada. In supermercato c'è, ce ne sono addirittura due, per ulteriori rifornimenti non solo di carne o carbonella ma anche di abbondanti dosi di alcol. Secondo quanto c'è stato raccontato da sì due frequentatori del Ticino, al termine di queste grigliate, che ripetiamo sono una costante per tutte le domeniche della bella stagione. Non è raro vedere persone visibilmente alticce, pericolose per se stesse o per gli altri. Testimoni oculari inoltre ci hanno spiegato che l'orda invasora non arriva qui soltanto a piedi dalla stazione ma anche in auto, a volte violando l'area di cantiere del ponte per parcheggiare proprio sotto il viadotto, all'ombra. Chi ci ha raccontato queste cose ha preferito rimanere anonimo perché qualche tempo fa, dopo aver richiamato alcuni griglianti a un maggior rispetto dei luoghi, si è ritrovato con tutte e quattro le gomme della sua auto tagliate. Le istituzioni si rimpallano le responsabilità tra comune e parco del Ticino con anche la provincia coinvolta per le violazioni dell'area di cantiere. Intanto i rifiuti restano lì, ammonticchiati perché, ci è stato spiegato, qualche volontario fa quello che può e cerca perlomeno di raggrupparli. La plastica se ne vola via, in acqua, dove potrebbe finire anche tutto il resto in caso di piena. Il problema insomma non è legato a una maxigrigliata abusiva di ferragosto, è strutturale. Da anni questo tratto di fiume è oggetto di scorribande con gravi danni ambientali. Chi viene qui la mattina presto ci racconta di aver trovato a volte delle braci ancora calde, segno che qualcuno accende dei falò anche di notte e in assenza di controlli chiunque agisce contando sull'impunità. È successo ancora a Milano un cantiere, un tubo che viene inadvertitamente urtato e forato e un incrocio che s'allaga. Immaginate di svegliarvi una mattina, di aprire le finestre e di trovare al posto dell'abituale piazza di cemento con qualche albero, una fontana con un getto di 10 metri che sprizza acqua nel cielo di agosto. Qualcuno potrebbe parlare di un sogno, ma in questo caso specifico la definizione corretta è disagio. Già perché la tubatura esplosa in piazza Sant'Agostino venerdì mattina ha mandato in tilt per quattro ore e mezza la circolazione della metropolitana, costretta a saltare la fermata sotto la piazza, oltre ad aver allagato il mezzanino e svariati altri spazi sotterranei. Intorno alle 10 del mattino una delle imprese che sta lavorando sulla piazza ha toccato, presumibilmente con i mezzi da scavo, una tubazione dell'acquedotto del diametro di 20 centimetri, provocandone la perdita. Il risultato è stato il geyser improvviso che ha attirato tanti sguardi di curiosi e non poche preoccupazioni. La tubatura è stata poi riparata dal pronto intervento di MM e dopo aver rimesso in sesto la stazione, la metropolitana verde ha ricominciato a fermarsi a Sant'Agostino. Si tratta del terzo incidente di questo genere soltanto nell'ultimo mese. Il 17 luglio una conduttura perforata da un'impresa di lavori in via Fontana aveva allagato cantine e piani terra dell'intera strada, causando anche migliaia di euro di danni. Scena pressoché identica a quella che si è ripresentata otto giorni dopo, il 25 di luglio, in via Morosini all'angolo con via Spartaco. Nessuna delle due occasioni precedenti però è risultata spettacolare come il geyser di piazza Sant'Agostino. Torniamo a Pavia dove continuano le polemiche su uno di quei progetti che si pensava potessero andare nel cassetto insieme al PGT, così non è perché il progetto delle case di via Marangoni a Pavia Ovest va avanti con i residenti che hanno scritto però una lettera al sindaco. Messo definitivamente in soffitto al PGT della giunta fracassi, non cessano però le preoccupazioni tra i residenti di Pavia Ovest per il rischio di una eccessiva cementificazione. Nei giorni scorsi sui giornali il sindaco Lissi aveva infatti affermato che il nuovo progetto a costruire in via Marangoni, presentato dalla sita BSRL, è conforme al piano di governo del territorio e che i proponenti hanno il diritto a realizzare nuove palazzine. Dichiarazioni che hanno fatto scattare l'allarme tra i residenti della zona, danni in prima linea per difendere gli spazi verdi dall'avanzata del cemento. Per questo motivo hanno voluto indirizzare alcune domande all'amministrazione rispetto alla situazione di Pavia Ovest. Innanzitutto il PGT vigente prevede lo spostamento dell'elettrodotto presente nell'area come condizione obbligatoria e necessaria per costruire nuove abitazioni, ma non se ne trova traccia nel progetto. Esiste un parere in merito? In secondo luogo il sistema fognario dell'area è inadeguato a ulteriori carichi. Anche per questo caso è stata fatta un'adeguata verifica, ma gli interrogativi non si esauriscono qui. Il progetto prevede, nell'area destinata ad edilizia convenzionata, la costruzione di uno studentato, senza chiarire però un tetto massimo al metro quadro sia di vendita che di affitto. Servono dunque chiarimenti. Infine, gli oneri di urbanizzazione previsti sembrano inadatti a compensare la cementificazione di un'ampia area verde e boschiva. Per questo motivo i residenti di Pavia Ovest chiedono maggiore attenzione al comune sul futuro consumo di suolo vergine all'interno della città. Continuano le procedure di sfratto per molti inquilini degli alloggi del Pio Albergo Tribuzio, nonostante si fosse promesso una pausa per agosto. C'è anche chi fa notare come chi sta gestendo ora il patrimonio immobiliare del Tribuzio sta andando contro quelle che erano le intenzioni dei benefattori che hanno donato quelle case. Sono in corso alcune procedure di sfratto per gli inquilini del Pio Albergo Tribuzio, nonostante in una commissione congiunta in regione del 18 luglio, il commissario Tronca abbia affermato che ad agosto non ci sarebbe stata alcuna procedura di esecutività. Così però non è stato. Infatti nella giornata di giovedì 22 luglio sono stati invitati a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Milano per convalidare lo sfratto. Nove in totale le persone che rischiano di rimanere senza una casa. Le udienze però sono state tutte rimandate al 5 novembre. Ma cosa c'è dietro questi sfratti al PAT? Ce lo spiega Alessandro Manca del comitato inquilini Pio Albergo Tribuzio. Il Pio Albergo Tribuzio ha circa 750 stabili, 750 appartamenti in una ventina di stabili dei quali un terzo sono sfitti e poi oltre un centinaio sono date a società di affitto a breve e poi ci sono quelli invece dati alle famiglie. Nel mese di giugno il commissario Tronca ha emesso un provvedimento commissariale nel quale sono previsti 39 sfratti. Attenzione 39 sfratti di cui 34 per fine locazione. Soltanto 3 per morosità, non è neanche specificata se è morosità volontaria o inconsapevole, uno per occupazione abusiva e uno per subaffitti. Noi abbiamo scoperto dagli atti di donazione, che sono atti congiunti perché c'è lo scioglimento e poi c'è l'atto di donazione, lo scioglimento della società. È proprio previsto che queste case sono state costruite, gestite e poi donate per i lavoratori a darle a prezzi calmerati. Io qui ho dei documenti che vi posso far vedere, si parla proprio negli anni 50 già del problema che c'era per le case che non c'erano, addirittura negli anni 50 non c'era ancora l'Istituto delle Case Popolari. A questa società al momento dello scioglimento cosa ha deciso? Lo diamo a un ente di beneficenza. Chi meglio del Pio Avergo Trivulzio possa continuare le finalità prescritte, volute dai benefattori. Purtroppo questo nell'arco del tempo piano piano non è avvenuto. Si è incominciato ad assegnare le case non più ai lavoratori ma mettendole all'asta, quindi a chi offriva meglio. Non solo, queste case devono essere ristrutturate, quindi magari chi si lo poteva permettere faceva un'offerta più alta e venivano assegnate a loro. Altra cosa, le case non venivano assegnate solo ai lavoratori ma adesso vengono assegnate anche alle società di ANBNB, quindi si tratta di una speculazione vera e propria. Le società ANBNB affittano magari allo stesso prezzo che danno le case ai lavoratori e loro poi dopo le subaffittano legalmente ad un prezzo maggiore. In questa estate ci sono state alcune rivendicazioni sindacali per le guardie giurate che sono in servizio al pronto sorscorso dell'ospedale di Magenta. È arrivata una risposta dell'azienda sociosanitaria territoriale che promette alcune migliorie. Potenziamento del sistema di videosorveglianza e maggior copertura di rete per le comunicazioni interne. Sono questi i passi che la SST Ovest Milano ha deciso di fare per venire incontro alle richieste esposte dalle guardie giurate della vigilanza che opera all'ospedale Fornaroli di Magenta. Tutto è iniziato con una lettera che i sindacati della FISA SCATCISL hanno inviato a prefettura, questura e ispettorato del lavoro. Un testo in cui si denunciavano le pessime condizioni di lavoro delle guardie, tra mancanza di sicurezza e di organizzazione, turni stressanti e la scarsa qualità, se non proprio l'assenza, di segnale radio per poter comunicare con la centrale operativa in caso di emergenza. A distanza di due mesi da quella lettera, la SST ha replicato, citando in particolare i recenti articoli apparsi sugli organi di stampa. I vertici sanitari hanno così evidenziato il proprio impegno per adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute e l'incolumità di coloro che accedono agli ospedali del territorio. Nonostante non sia direttamente coinvolta nelle relazioni sindacali tra le guardie giurate e la società, la SST ha portato avanti con incontri avvenuti in più occasioni un dialogo per garantire al meglio un ambiente di lavoro sicuro per tutti, sia per i propri dipendenti che per il personale esterno. L'azienda ha quindi confermato la massima attenzione sul fronte della sicurezza e per questo provvederà a potenziare, a seguito di uno studio di fattibilità che è già in corso, il sistema di videosorveglianza dell'area e la copertura della rete di comunicazione. Che a Milano il consumo di droga sia consistente non è un mistero, ma addirittura ci sono delle analisi che permettono di sapere a seconda del giorno della settimana qual è la droga più utilizzata. Guardate. Dalla settimana della moda a quella del design, dalla settimana della musica a quella della cultura. Milano di settimane famose ne ha tante, strano però stavolta, è ritrovarsi a parlare della settimana della droga. E no, non stiamo parlando di un evento specifico, bensì degli usi e abitudini dei milanesi nel consumo degli stupefacenti suddivisi per i giorni della settimana. La cocaina, per esempio, la consumano dal giovedì al sabato, mentre l'uso di cannabis tende a diminuire leggermente nel weekend, per poi risalire a metà settimana. Il consumo di MDMA, meglio nota come ecstasy, raggiunge il picco il sabato. Questo calendario della droga emerge dalle analisi delle acque reflue del depuratore di Nosedo, condotte dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, nell'ambito dello studio europeo Wastewater Analysis and Drugs, a European Multisidi Stadi. Le analisi delle acque di scarico permettono di stimare il consumo di sostanze stupefacenti nelle 24 ore precedenti. Per la cocaina si stimano tra i 350 e i 400 mg al giorno ogni 1000 abitanti, per la cannabis tra i 50 e i 60. Le metanfetamine si attestano su una media di 15 mg, mentre l'ecstasy raggiunge i 25 mg al sabato, con rilevazioni effettuate la domenica. Dal 2023 anche la chetamina, un anestetico usato a scopo ricreativo, è monitorata. Se ne trovano dei 20 e 30 mg al giorno per 1000 residenti. Lo studio coinvolge 112 città in tutto il mondo e Milano rientra tra le prime 20 città per consumo di chetamina. L'andamento annuale mostra un generale aumento dell'uso di stupefacenti dopo il calo del 2020 legato alla pandemia, con l'eccezione della metanfetamina, il cui consumo rimane stabile. Cambiamo argomento, si potranno presentare delle proposte per le iscrizioni dei cittadini pavesi illustri al famedio, all'ingresso del cimitero. L'industriale Vittorio Necchi, l'ex rettore dell'Università di Pavia Plinio Fraccaro, lo scrittore giornalista Mino Milani e l'artista Angelo Grilli. Sono questi gli ultimi quattro nomi scritti nel famedio del cimitero maggiore di Pavia nel novembre dell'anno scorso. A 76 anni dall'ultima volta, nel corso del 2023, il Pantheon dei pavesi ha colto quattro nuovi nomi di personaggi che hanno contribuito a dare lustro alla città di Pavia attraverso le loro azioni. Una tradizione abbandonata per lunghissimo tempo e ripresa dall'amministrazione targata Fracassi, che proseguirà anche quest'anno. Nei giorni scorsi, infatti, l'amministrazione di Palazzo Mezzabarba ha aperto ufficialmente il bando per proporre nuove candidature. Il Comune di Pavia organizzerà una cerimonia solenne e pubblica nel corso del mese di novembre, nell'ambito della ricorrenza di ogni santi e in considerazione del fatto che il 7 novembre del 1798 fu aperto ufficialmente alla cittadinanza il cimitero monumentale di Pavia. Le candidature, con nomi e motivazioni, potranno essere presentate da assessori e consiglieri comunali, ma anche da semplici cittadini, oppure enti ed associazioni. Le domande dovranno essere indirizzate al sindaco Michele Lissia e consegnate in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune entro mezzogiorno del 31 agosto, con la dicitura proposta di onoranza al famedio del cimitero monumentale di Pavia anno 2024. L'ultimo sindaco del capoluogo a descrivere un nome nel famedio era stato nel lontano 1948 Carlo Milani, padre del giornalista e scrittore Mino. Una tradizione dimenticata per oltre 70 anni che l'amministrazione di centrodestra ha voluto reintrodurre un anno fa. Ci fermiamo qui e vi lascio il resto della programmazione di Milano Pavia TV. Arrivederci.